Fiesta Global, 15 anni, 11 anni a Montefabri, la Kermesse è nata, a dire il vero, quasi per scherzo, noi poco più che ventenni nella piana di Talacchio, piano piano ci siamo conquistati la fiducia dell'amministrazione e il borgo proprio regala quella atmosfera da favola, un borgo meraviglioso che aiuta anche a comprendere meglio quelli che sono gli spettacoli, le tante forme artistiche, il Festival delle Arti Globali, e l'associazione Tribalex che da 15 anni organizza particolarmente fiera di questa edizione, 15esima edizione, grande lavoro alle spalle, circa 70 volontari tra i 18 e i 40 anni. È un piacere dare avvio a queste tre giorni di Fiesta Global, Montefabri è un luogo meraviglioso che vale la pena una visita, ha un panorama bellissimo e questi tre giorni sarà arricchito di eventi, iniziativi culturali di ogni tipo. Complimenti all'organizzazione, alla Tribalex, al comune che insomma partecipa insieme a loro, alla regione e soprattutto a tutti i volontari che si adoperano per la riuscita dell'iniziativa. Inoltre con piacere abbiamo con noi ospite Gradara, quindi chi si trova in zona può fare facilmente una visita sia a Montefabri sia a Gradara. Gradara è il borgo dei borghi per l'anno 2018, è un premio, diciamo, a cui ci teniamo moltissimo, lo dedichiamo sì alla nostra amministrazione ma anche all'amministrazione precedente. Dobbiamo ringraziare anche tutte le attività che ci sono all'interno del borgo, ringrazio grande anche a tutte le associazioni che a Gradara ne abbiamo 23 e tutte quante collaborano a far conoscere Gradara ai turisti. Quindicesima edizione di Fiesta Global, una bella iniziativa multietnica che in tre giorni mette insieme 101 eventi in uno spazio piccolissimo che è un gioiello, Montefabri, un bellissimo centro storico, un bellissimo borgo delle Marche, uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi complimenti agli organizzatori, un bel evento culturale che sicuramente attrae tante persone, tanti giovani, tanta gente ed è un'occasione per valorizzare una delle bellezze marchigiane, uno dei borghi più belli, una delle fortificazioni più belle. Quindi un'occasione di valorizzazione turistica sicuramente potremmo dire quasi senza precedenti. Siamo alla quindicesima edizione di questa Fiesta Global, che è una festa che ha un carattere anche internazionale, che si tiene qui a Montefabri, un gioiello d'architettura, in un luogo meraviglioso, un paesaggio straordinario. Tre giorni, cento e venti, siamo particolarmente felici e ci congratuliamo con gli organizzatori, su tutti i giovani che organizzano un evento di tre giorni per migliaia di giovani che verranno qui a Montefabri. Quindi grazie, complimenti e la fruizione di queste bellezze ambientali, paesaggistiche, architettoniche straordinarie è solo una cosa da visitare. Grazie a tutti.